Non c'è ordinanza che tenga puntualmente ignorata quella che anche quest'anno è stata emessa dal sindaco di Bari sui botti. L'ordinanza impone in modo chiaro il divieto di vendita ambulante, non fino al 1 gennaio 2014, di ogni tipo di fuochi di artificio, nonché il divieto di utilizzo degli stessi fuochi sia in un luogo pubblico sia nei luoghi privati, compresi finestre e balconi. Pena per i trasgressori, sanzioni da parte delle forze dell'ordine. Responsabile del procedimento il comandante dei vigili urbani, i sequesti per prevenire i botti ci sono stati, i controlli a tappeto della città hanno avuto i loro frutti, solo nella giornata del 31 la polizia municipale ha rastrellato ogni tipo di fuoco da bancarelle sparse in vari quartieri della città, denunciando alcuni venditori, altri sono riusciti a darsela a gambe e alla vista degli agenti. Nell'ultima notte dell'anno i carabinieri, per evitare gravi conseguenze dall'uso di botti, hanno sequestrato ben 200 kg di materiale pirotecnico, venduto abusivamente e denunciato 14 persone, solo a Bari 8 i denunciati per commercio abusivo su banchetti improvvisati. Interventi insomma per prevenire situazioni pericolose, ma denunce fatte a persone sorprese a scoppiare petardi non risulterebbero. Eppure quest'anno più che mai a Bari il nuovo anno è stato salutato con spari in gran quantità, a dispetto di un'ordinanza efficace, evidentemente solo a metà.